Nonostante una stagione con molti più affanni e problemi rispetto ai sorrisi e ai trionfi a cui aveva abituato negli ultimi anni, l'Ital Service Pesaro è comunque di nuovo lì, ovvero dove ci si gioca un trofeo. Quella Coppa Italia che il calcio a 5 pesarese ha vinto nelle ultime due edizioni e che questo weekend difenderà da unica marchigiana intrusa in mezzo a tre campane. Nella nuova formula delle Final Four sabato a Napoli si giocheranno la Coppa Eboli-San Giuseppe nella semifinale delle 18, nell'altra alle 21 l'Ital Service la vedrà con Napoli, padrona di casa e prima in classifica in Serie A. La finale sarà domenica alle 18. Una che Hermeschi l'Ital Service ha presentato oggi nelle cortile di Ratti Boutique, brand della moda e del lusso con 70 anni di storia, gli ultimi dei quali trascorsi da fedele sponsor dell'Ital Service. Giochiamo con la squadra più forte in assoluto, prima in classifica, una squadra che comunque vanta nel suo roster tanti i nostri ex, Borrutto, Sala, Sonorio, De Luca, quindi una squadra con una forza, una vehemenza pazzesca, però come ha detto il nostro mister, noi ci proviamo. Questa è la nostra mentalità, una mentalità vincente, chiaramente quest'anno al contrario degli altri anni non partiamo da favoriti, però è successo anche in Supercoppa che non partivano da favoriti contro l'Unimpus Roma, tra l'altro abbiamo giocato anche a Roma e abbiamo vinto. Noi ci proviamo e io personalmente sono ottimista, come sono sempre stato e sicuramente faremo qualcosa di positivo. Purtroppo sarà una Coppa Italia da affrontare con una squadra mutilata per l'ennesima volta in stagione. Dal CIN è infortunato, da un mese, il canale è fuori già da parecchio, proverà forse a scaldarsi e a mettersi a disposizione qualche minuto, il portiere ha una piccola frattura alla mano, l'altro portiere ha il ginocchio quasi da operare e poi c'è un ultimo infortunio quello di Ruanne che l'altro ieri ha preso una botta forte e a tutt'oggi non si allena perché ha una contusione al piede, quindi è una situazione, un anno abbiamo scelto una rosa ridotta per restare un po' tranquilli, perché l'altro anno avevamo i problemi inversi di sovrannumero e quest'anno è così. Noi siamo una squadra che comunque in partita secca possiamo avere delle chance con tutti ma quest'anno la costante è stata dal 15 settembre in poi sempre il 30% minimo in meno di forza lavoro a livello di giocatori e quindi noi cercheremo di arrivare con le altre due caratteristiche necessarie, cioè con la testa, col cuore, con le gambe a poter dar fastidio al Napoli in una partita secca che sappiamo che può essere temuta da tutti. A dare l'imbocca al lupo all'Ital Service anche l'assessora allo sport Mila della Dora assieme a Silvana e Matilde Ratti. Nell'occasione è stata presentata anche la nuova maglia dell'Ital Service Griffata Ratti che sarà utilizzata nel riscaldamento di Napoli. Per noi è molto importante creare queste sinergie con le attività della città e devo dire che la squadra di calcio a 5 dell'Ital Service è un'eccellenza e per cui per noi è stato molto bello creare questa sinergia e quindi l'abbiamo voluto fare e credo che poi unire lo sport alla moda sia comunque una cosa molto interessante perché comunque lo sport è fatto di giovani e quindi è sempre bello valorizzare anche l'attività dei giovani. I nomi come quelli di Ratti allo sport e alla nostra società, alla nostra squadra fanno solo bene perché oltre ad aiutarci da tutti i punti di vista economico ma anche morale ci aiutano anche ad avvicinare altri sponsor, altri nomi importanti perché comunque sono nomi attrattivi, sono delle calamite in senso positivo perché comunque chi vede il nome di Ratti sulle nostre maglie poi per forza di cosa si vuole avvicinare a noi perché comunque ti dà quell'idea, quell'impatto di una società molto seria, molto sana, molto solida e quindi può fare solo bene un nome così e quindi ringrazio Matilde e Silvana per aver sposato il progetto Ital Service.